Sì, eh lo so, però con il moto non posso, qua sono sempre venuto solo in moto, quindi va bene, buona giornata, buon pranzo, ciao Ciao amici, siamo sempre al 3 febbraio, sto scendendo dal muraglione, dalla parte di Forlì Ma non andiamo a Forlì, adesso vi porto in uno dei miei posti preferiti, al Monte Busca, al Vulcanino, che praticamente è un vulcanino che c'è la fiamma da anni e anni, forse secoli, sempre accesa, che sembra che sia una cosa di metano, una fuoriuscita naturale di metano Adesso vi ci porto, ancora siamo un po' in là, però la strada qua merita, se fai le curve e non vai dritto, forse è meglio Wow, guarda che curve La strada qua no Grazie a tutti. 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 Vengo qua, cioè, è assurdo, con 15 gradi, è incredibile, mi sembra surreale. Ah, che meraviglia, che meraviglia, che scalda il sole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E vi porto. Non so se si può fare la braccia. Sopra il sapore di metano. E' molto bene. Oggi sta bene. anche solo il sole. Oggi sta... a Bologna. A Bologna. a Bologna. a Bologna.